La protesta si fa più forte, ma soprattutto questa è la seconda settimana di Sciopari, quindi noi dobbiamo passare dalla protesta a cercare di trovare qualche soluzione. Quindi anche alla politica la domanda che mercoledì io farò sarà più forte, nel senso che se stanno veramente tutti con noi, se stanno tutti con noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione e per trovare la soluzione bisogna convocare l'incontro. Quindi ci dobbiamo fare tutti portavoce al Ministro per la convocazione di questo incontro. Non ci possono essere pregiudizi perché stiamo in Sciopari, stiamo in Sciopari perché ci stavano chiudendo la fabbrica e ogni minuto che noi stavamo lavorando l'azienda lo usava per copiare i nostri codici e quindi per chiudere la nostra fabbrica. Questo è il motivo dello Sciopari. Di fronte a questo io spero che tutti capiscono, l'Abruzzo faccia sistema e faccia arrivare questa unica voce al Ministro, perché se no saremo costretti a inasprire le nostre proteste anche in altre serie. Quindi io spero veramente che ci siano incontri e non ci siano pregiudizi.